Domenica 13 gennaio al Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano si terrà il secondo appuntamento dei laboratori di Musee Eclatè, Museo Senza Limiti. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto omonimo che si propone di portare il museo nella città e di accompagnare la comunità di Ponte Cagnano-Faiano alla scoperta del ricco patrimonio culturale del territorio. Il secondo appuntamento, intitolato Gli Etruschi in città, prevede una visita tematica che condurrà adulti e bambini a scoprire nel museo i luoghi e le testimonianze legate all'arrivo degli etruschi. Per la prima volta saranno esposti due importanti corredi funerari rinvenuti nella necropoli in località Sant'Antonio, databili tra il IX e l'VIII secolo a.C.